Può dirmi che cosa ricorda? L'incidente. Non so come sono arrivato qui. Lei è stato in coma. Non le abbiamo trovato nessun documento addosso. Come si chiama? Non ci sono regole in presenza di traumi così gravi. I ricordi sono frammentari. L'incidente. Non è prudente. Perché la tengono d'occhio? Ti sarà un po' difficile crederlo. Tutto quello che pensi di ricordare è falso. Se io non sono io, che diavolo sono tu? Bene e male. A volte il confine tra le due cose è una linea molto netta. A volte è nebulosa. Faremo la differenza. Dai come le chiamano le qualità che hai. Doni. Ti insegnerò a controllare il dono. A usarlo. Ci sono altri modi per vedere. Noi due abbiamo molto in comune. No, non è affatto così. No! Il male fatto da un altro non ti rende buono. No, non è affatto! No. No, non è Bread. No, non èargo. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti